bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi abbiamo un sacco di novità per quello che riguarda il futuro della season 4 di fortnite ieri abbiamo visto un po di infarinatura generale ma oggi parliamo di tutto quello che è presente e che forse non sapete a che livello bisogna arrivare quali sono le varianti delle skin sapete che ci sono 5 nuove location in arrivo e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi un argomento davvero molto felice per tutti arriva finalmente a tutta la community la 30 tycoon chiamata in italiano il don torsolone per tutti quelli che hanno fatto dieci punti nella free fortnite cup troverete nell'armadietto questa skin sicuramente un regalo gradito che però porta anche purtroppo il termine dello sviluppo di fortnite per tutti i giocatori da ios quindi purtroppo non potrete aggiornarlo alla 14.00 finché non troveranno una soluzione apple contro fortnite vi auguro che questa arrivi finalmente in un tempo molto breve e spero ovviamente che anche voi potrete godervi la season 4 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché appunto ci sono delle notizie che dicono proprio che non ci saranno più gli aggiornamenti come vi dicevo non ho capito se potete giocare comunque alla patch 13.40 se qualcuno ha voglia di scrivermelo qua sotto me lo scriva perché sono curioso di saperlo quello invece di cui vi volevo parlare è proprio a quale livello dobbiamo arrivare in questa season per avere tutto completo e che cosa ci sarà beh ogni skin di ogni eroe avrà tre varianti le vediamo molto rapidamente tor livello 105 livello 145 e livello 185 argento oro e olografico abbiamo anche jennifer walters livello 110 150 e 190 anche lei davvero molto bella in tutte e tre le varianti andiamo a gruth livello 115 155 e 195 devo dire che è molto bella la colorazione che hanno messo a gruth soprattutto quella olografica gli sta veramente benissimo storm tempesta livello 120 160 e livello 200 ragazzi quindi mamma mia sono davvero tanti i livelli se volessimo completare e non sono finiti perché c'è dr doom a livello 125 165 e 205 anche lui una skin davvero di un certo peso molto molto bella nell'ultima variante mystic livello 130 170 e 210 ragazzi come vedete tanta roba e arriviamo a tony stark livello 135 175 e 215 per averlo olografico e se pensate che è finita qua mi dispiace manca ancora wolverine 140 180 220 questo è il livello massimo da raggiungere se volessimo ottenere tutti gli stili di tutti gli eroi marvel presenti in questo pass battaglia quindi buone partite tanta roba e vi auguro di poterlo raggiungere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sono presenti nei file di gioco ancora non presenti pubblicamente due immagini che lasciano un pochettino intendere l'arrivo di nuove location la prima immagine come vedete rappresenta la molten renegade raid raider con sottoscritto discover abilities e abbiamo anche questo screen che è davvero molto molto curioso sembra quasi una nuova location sospesa tra le montagne quelle in alto a destra come vedete c'è nel primo piano doctor doom al centro c'è una delle armi mistiche che possiamo prendere e sta facendo danno con i suoi pugni ma non è l'unica immagine che è presente c'è anche questa dove un raven ha sottoscritto assemble and drop in ed è molto curiosa l'immagine che c'era sopra il nostro raven la vediamo in questa schermata molto più definita forse avete notato qualcosa di particolare se non lo avete notato vela zoom o io ragazzi c'è una nuova location al fianco di brughiere brumose come vedete è quella quella che sembra boh non saprei neanche mi sembra di scorgere due edifici comunque una location e qualcuno vocifera che possa essere la location di black panther chi è black panther dovrebbe essere un nuovo eroe tra l'altro volevo farvelo sentire ce la facciamo ve lo faccio sentire tra poco perché sono stati trovati anche i file audio quindi è una conferma che posso già darvi ufficialmente il che vuol dire un nuovo potenziamento ora ve lo spiego ma prima volevo farvi vedere anche questa immagine che è davvero molto interessante perché ci sono 4 nuove location presenti e alcune sono già state trovate in mappa non sono ancora pubbliche ma sono già quelle le posizioni panther museum e qua ci andiamo a riallacciare alla black panther non è che quella di prima era il panther museum potrebbe essere anzi è proprio quello collectors museum security track e dog house o un'immagine un pochettino più carina della minimappa eccola qua ragazzi ve la sto facendo vedere come vedete il collectors museum rimane proprio all'esterno in basso a destra della mappa il panther monument che in realtà sarebbe panther non mi ricordo ma non era monument è proprio quello che abbiamo visto prima abbiamo il dog house che non si capisce bene cosa sia vicino a siepi da grifoglio e il security track prison transport in alto dove ci sono le casette vicino al faro molto interessante anche quest'ultima perché c'è qualcosa di nascosto che non abbiamo ancora capito che cos'è quando si parla di sicurezza prigioni sappiamo sempre che la mappa è lì lì per essere messa al ferro e fuoco da chissà chi e infatti ragazzi un'altra immagine molto carina si pensa che il museum sia proprio quella dell'immagine che vi avevo fatto vedere prima ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché eccolo qua il post che volevo farvi vedere c'è un'ottima chance che noi potremmo ottenere black panther la skin di black panther in questa stagione ci sono le sue abilità e abbiamo anche i suoni ve li faccio ascoltare un attimino per favore per favore come vedete sono davvero molto interessanti abbiamo due nuovi potenziamenti il kinetic absorption e il wire wind blast sono praticamente due potenziamenti mitici come quelli che già siamo abituati a vedere in mappa si dice che il primo possa assorbire ovviamente l'energia la salute in questo caso dagli avversari mentre il wire wind blast potrebbe essere wire wind dovrebbe voler dire tornado comunque qualcosa del genere io non conosco black panther ma se qualcuno ha guardato il film e la conosce mi scriva sotto le abilità perché sono davvero molto curioso e arriviamo all'ultimo argomento di oggi perché ragazzi ci sono delle curiosità su questa specie di rift beacon presenti in mappa li avete visti sicuramente mi sto riferendo proprio a questi aggeggi che sembrano essere messi lì a caso ma in realtà ragazzi hanno una funzione molto interessante porca vigliacca mi sono perso la mappina peccato che me la sono persa ve la faccio vedere ugualmente in quello un pochettino più sfocata come vedete ragazzi sono messi tutti in cerchio e il cerchio è veramente molto grande perché prende almeno un quarto della mappa non sappiamo ovviamente che cosa voglia dire ma sappiamo che nei file di gioco quell'area delimitata si chiama sphere e sarà probabilmente una nuova location insomma ragazzi le notizie come vi anticipavo piano piano stanno uscendo fuori nei giorni che arriveranno cercherò di metterle tutte in ordine scopriremo tutto quello che c'è da scoprire io vi ringrazio per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao